Quando un po' privato p***o, non lo punirerò, lo punirerò tutti! La formula per rispondere è sì, sergente istruttore, oppure no, sergente istruttore. E se deve avere una risposta affermativa, allora il coro dell'intera squadra suonerà esattamente in questo modo. Il sergente istruttore è rimasto molto colpito dalla recluta, dal momento che, come si immagina, per chi non ha mai maneggiato un'arma, all'inizio dell'addestramento è una sfida. Quello che chiamiamo addestramento alle armi, rappresenta essere in grado di smontare l'arma, rimontarla e fare quello che avete visto fare a Forrest, cioè il controllo delle funzioni. E la tua speranza come ispettore, o sergente istruttore, è che tutti lì dentro possano fare come Forrest. La cosa buffa è che la situazione presentata qui, quando sono lì con gli spazzolini da denti, è una cosa del passato, tempi in cui si dava alla recluta le forbici e gli si chiedeva di andare a tagliare l'erba. Promuovono un ambiente di lavoro di squadra, come si è visto con l'addestramento alle armi, che è quello che io chiamo, automatismo. Ripetete l'operazione fino a quando non si riesce a farla bene. Ha lo stesso potere formativo, degli spazzolini visti poco fa. Questo tipo di approccio da parte del sergente istruttore, era molto comune per quel periodo, durante la guerra del Vietnam. Gli darò un bel 9. Per quanto riguarda i percorsi a ostacoli, di solito nel campo di addestramento si affrontano due volte. Questi percorsi, sono progettati per dimostrare la forza che si ha nella parte superiore del corpo, e la resistenza. E potrebbe anche mettere alla prova la tua paura dell'altezza. O la paura del buio. E vivi in prima persona il lavoro di squadra, ci si aiuta a vicenda. Lo si vede in due occasioni qui, seguite da Urla e Grida. La chiamiamo anche simulazione delle condizioni del campo di battaglia. La cosa interessante di questa clip, è che le corde e i nodi non vengono più insegnati nell'addestramento di base. Lo si fa solamente coi ranger, perché si viene esaminati nella fase di addestramento in montagna. Nel corso del tempo le cose sono cambiate, ma ci sono alcuni requisiti che i comandanti ritengono necessari al termine dell'addestramento di base. Di nuovo, questa, è una di quelle cose che vengono dalla TV e da Hollywood, dove si instaura questa sorta di rapporto di intimità con la propria arma. Si tratta comunque di un rapporto intimo ovviamente, perché si vuole essere sicuri di sé con quell'arma in mano. Si dovrà sapere come smontarla e come rimontarla, fino al punto di essere sicuri di poterlo fare con gli occhi bendati. Ma parlarne in una maniera quasi erotica, è una cosa che succede solo a Hollywood. Durante la Seconda Guerra Mondiale, essere un obiettore di coscienza sarebbe stata una sfida in termini di opposizione alla leadership. Questo ragazzo è Desmond Doss. È stato effettivamente insegnato della medaglia d'onore e non ha dovuto portare un'arma per ottenerla. Direi sicuramente che questo era un 9 in termini di realismo. Purtroppo, nel cinema, capita molto spesso di imbattersi in sergenti istruttori o ispettori come questo, che toccano, colpiscono e afferrano per il collo una recluta. Sono situazioni che si vedono anche in parecchi altri film. Mettere le mani addosso alle reclute in addestramento è una cosa del tutto inaccettabile. E lo è sempre stata. Proprio per questo, sembra che si abbia il diritto di arrivare a questi eccessi. Arriva a sbattere la testa del ragazzo contro un muro, ed è una situazione inaccettabile, perché, dove sta il limite? Il paintball è doloroso, come si può notare. Quel ragazzo imparerà una lezione preziosa. Non si deve mettere in bella mostra, se vuole affrontare uno scontro a fuoco. Ecco perché il paintball, che non è altro che un altro tipo di simulazione, come la chiamiamo noi, è molto utile durante l'addestramento. Questo è senz'altro il LP agior incubo di un addestratore, di un sergente, di un leader, che qualcuno impegnato nell'addestramento perda la vita. Sparano i proiettili sopra le loro teste. Noi lo facciamo davvero, e lo facciamo anche di notte, ma le condizioni sono completamente diverse. Ovvero, stiamo attenti a puntare le armi molto più in alto di così. Ed è ciò che chiamo soglia superficiale di sicurezza. Anche se ci si alza in piedi o si salta, i proiettili restano ad almeno 6 metri di altezza sopra le teste degli individui. E di nuovo, questa tragedia, per quanto sia sfortunata, può accadere proprio quando queste regole non vengono rispettate. Come film ambientato in un capo di addestramento, merita solamente un 5. È molto interessante questa scena, perché ho servito come sergente maggiore di questa unità, ovvero il 2ndo battaglione 506, reggimento di fanteria paracadutisti, della 101esima divisione dell'aviazione. Questa è la compagnia ISI durante la preparazione alla Seconda Guerra Mondiale. In quel periodo della nostra storia militare, erano poche le persone già sposate. E tutti richiedevano spesso un permesso di due o tre giorni. Le cose su cui vengono ispezionati, sono cose da parata, e loro sono lì fuori in tenuta da combattimento. Capisco dove vuole arrivare, sta solo cercando di infondere disciplina. Sono quasi sicuro, che il morale non sarà alto ancora per molto. Abbiamo corso su questa montagna un paio di volte, il Monte Currae. Non è uno scherzo. Quello che ho notato qui, è che stava dicendo loro di lasciare indietro quell'uomo. Ma non si lascia un compagno a terra, e questo fa parte dell'etica del soldato e del non arrendersi mai. Se si collega tutto questo alle moderne forze armate, lasciare qualcuno indietro sarebbe un'azione assolutamente da non compiere. Sarebbe un dieci per la corsa su quella montagna, e per la seconda guerra mondiale darei un otto in termini di realismo. Li metti sulla sedia del barbiere, li giri, e non hanno più capelli. A volte la si sente nominare questa pratica nelle canzoni, durante le marce. Gli uomini si tagliano i capelli completamente. Le reclute donne però non sono tenute a farlo. E credeteci o no, ma è più che altro una questione di salute e igiene. Perché ci sono persone che provengono da un po' tutti gli ambienti, e quindi non si sa se abbiano, per esempio, pidocchi o altri tipi di problemi sotto tutti i capelli. Qui ci sono i vaccini. Basta farsi vaccinare. Così si cerca di evitare ogni tipo di malattia perlomeno conosciuta dall'uomo. Prima impressione che ho di questa scena, è che tutti quanti si stanno spogliando in un'ampia stanza, in un luogo aperto. Non è questo che avviene, in quella che viene chiamata Military Entrance Processing Station, o MEPS. Tutti i membri dell'esercito passano di lì, e non ci sono istruttori o sergenti presenti. In quel frangente, sono presenti solamente dei componenti del personale dell'esercito come gli amministratori, i medici, i consulenti, che determinano se si è idonei o meno all'addestramento. Come delle papere. La prima volta che l'ho fatto mi sono detto, ma che diavolo, ti fanno camminare da un lato all'altro. Il compito del medico in questo momento, è quello di esaminare la tua struttura ossea, lo sviluppo muscolo-scheletrico, l'eventuale presenza di piedi piatti, la mobilità, e l'agilità. Ma sicuramente non vi trovereste in una stanza come quella, piena di persone, perché sarebbe difficile da valutare. Devo dare a questo film un 4 su 10, perché non è detto che l'intero processo di reclutamento avvenga con i sergenti istruttori presenti. Finora sembra piuttosto fedele. Gli ispettori del corpo dei Marines, in realtà, hanno un copione. Dicono, siediti e guardami. Bisogna specificare che vi è una differenza nei titoli di queste figure. Gli istruttori sono legati al corpo dei Marines, mentre i sergenti istruttori entrano in gioco per l'esercito. E l'interazione nella prima parte della scena è un classico esempio di quella che noi chiamiamo controllo totale. In quei campi di addestramento, ovunque si guardi, ci sarà un ispettore o un sergente istruttore che si assicurerà che la formazione in partita venga consolidata. Quindi, quando vedete lì Hermè camminare in quella scena, sta facendo esattamente quello che farebbe un ispettore. Anche se in realtà era un sergente istruttore. Ha prestato servizio per diversi anni durante la guerra del Vietnam come se... Avete capito bene? Notate come il sergente urli in continuazione, e non perché gli piaccia urlare contro le persone. È solo perché non devono dover ripetere gli stessi comandi in continuazione. Se una recluta si trova a un'estremità della grande camerata, sentirà le istruzioni allo stesso modo di una recluta che si trova dalla parte opposta. Un'altra cosa che si vede spesso in questi film e serie televisive è il sergente istruttore che dice molte parolacce e bestemmie. Lanciare insulti e imprecare non è qualcosa di accettabile, ma è vero che talvolta accade. Per l'epoca del Vietnam è piuttosto realistico, ma oggi ci sono persone che decidono volontariamente di servire il proprio paese, e la prospettiva è diversa. Ho fatto parte del comitato che ha portato il cambiamento chiamato Shark and WAA, conosciuto come Shark Attack. Per contrastare questa idea secondo cui bisognava distruggere le persone per rafforzarle, e ci siamo concentrati maggiormente sul lavoro di squadra. Ed è per questo che sono nate le 100 yard. Giorno 1, ecco la sfida. Una parte fondamentale del processo consiste nel controllare l'estetica in termini di salute delle reclute o degli allievi. E quindi devono controllare i piedi, devono controllare le mani e assicurarsi che non ci siano ferite aperte. Abbiamo abbandonato i bauli oggi, e modificato la maggior parte dell'attrezzatura all'interno delle camerate. Quindi non c'è per forza un baule, né tantomeno si vedrebbe una recluta stare in piedi sull'attrezzatura in quel modo. Hanno questo termine, lo chiamano mettersi in riga. Ed è proprio il mettersi in riga per poter effettuare quelle verifiche. Ecco, ci siamo. Soprattutto quando ci si trova nelle prime fasi dell'addestramento, sia l'ispettore che il sergente istruttore finiranno sicuramente per punire in collettivo tutte le reclute. Anche se una singola persona può sbagliare, è ormai andata persa l'opportunità che qualcuno guardasse e magari nascondesse o aiutasse Pilla a risolvere il problema. L'istruttore comunica questo, che sono tutti responsabili. Per come rappresenta quei tempi, merita un 9 su 10. Ma se parliamo della situazione odierna, il realismo è probabilmente pari a 7. Quando erano disposti in formazione, il leader si è fermato e ha guardato questo ragazzo, che sembra un ragazzino delle medie. C'era poi un ragazzo, di nome Flaherty, e questo ragazzo era alto 1 metro e 45 centimetri. Lo chiamavano il killer gigante per le varie imprese che compì durante la guerra in Vietnam. E lui era più piccolo di quanto fosse Rogers. Il più piccolo, a destra all'interno della formazione, ha finito per mettere a segno il piano risolutivo. In un addestramento di base, è molto probabile che in realtà una situazione di questo tipo non verrebbe imposta mai a un allievo o a una recluta. Si tratta di un'unità che si occupa di missioni speciali, e che viene qui, in questa scena, sottoposta a una valutazione. Perché vogliono sapere se hai delle abilità speciali? Quello che facevano durante l'addestramento, non è qualcosa che si può vedere nell'addestramento delle comuni reclute. Quindi, gli darò un 5. Sì, quello è il Campainet, il famoso cappello da sergente istruttore. E si dà il caso, che io abbia proprio qui il mio. Questo copricapo, è un accessorio che viene indossato principalmente dai sergenti istruttori uomini dell'esercito. Ma non solo, anche dagli ispettori, sia uomini che donne, dei Marines. La sua particolarità è che, mentre tutte le divisioni in generale, tranne la marina, hanno una qualche forma di Campainet, distinta per uomini e donne, l'esercito ha ancora un cappello a parte per il sergente istruttore donna. Si chiama Bushet. La parte in cui il personaggio inizia a cantare quel motivetto accattivante. È interessante che la maggior parte delle canzoni da marcia provengano proprio da quei tipi di motivetti lì. O canzoni popolari, R&B, anche filastrocche per bambini. Persino la mia voce è stata trasformata in una canzone da marcia, nella pubblicità della Gatorade, in cui mi si sente cantare di quanto sia un duro lavoro. Questi ragazzi stanno solo saltando sul carrozzone e cantando questo motivo accattivante allo stesso tempo. Non è realistico. Tuttavia, all'interno dell'esercito, in quello che chiamiamo addestramento individuale avanzato, i periodi di formazione vanno dalle sei settimane, ai sei mesi e possono arrivare anche a un anno. Le esercitazioni e le prove delle cerimonie sono di solito utilizzate per continuare a motivare gli individui che hanno un periodo di addestramento più lungo. Ma non è così frequente in un addestramento di base al combattimento, perché ci si concentra sul tiro, sul movimento, sulla comunicazione e sul comportamento da tenere sul campo di battaglia. Devo dare un 4. Ci sarebbero molte cose da dire qui. All'inizio era sicuramente qualcosa che non si vedeva spesso nell'addestramento delle reclute. Oggi, invece, si possono trovare molte donne ad occupare posizioni di vertice nell'esercito. È una cosa che non si è verificata per molti, direi per troppi anni, fino a quando l'esercito non ha iniziato ad aprire i ranghi di comando della fanteria anche alle nostre donne. In base alle informazioni e alle istruzioni ricevute in questa clip, si trattava qui di un addestramento individuale avanzato, un addestramento di tipo medico. Le operazioni e missioni di addestramento generalmente non sono mai così estreme. Ad esempio, basti guardare alla scena dove si trovano dentro il fiume, con tutto quell'equipaggiamento addosso. Si rischia seriamente di annegare, o chissà cos'altro. Non tutti gli istruttori esporrebbero le loro reclute ad un rischio così elevato. Anche in questo caso, l'esposizione diretta ai fattori di rischio non è qualcosa che si vede di frequente nell'addestramento delle reclute, ma è qualcosa di molto simile dal punto di vista della sfida, per quanto riguarda l'esercito. I Marines hanno il crucible, e l'esercito ha una cosa chiamata The Forge, e sono abbastanza simili. Nella prova finale di tutto l'addestramento che ricevono durante la formazione delle reclute nei reparti di assistenza medica, potrebbero dover curare un ferito o trasportarlo, come avete visto qui. Tutto questo, per verificare se tutto l'addestramento cui sono state sottoposte, ha effettivamente contribuito a far sì che queste persone siano sicure e pronte a partire per il loro prossimo incarico. A questo film, devo purtroppo assegnare solo un 5 per quanto riguarda il realismo. Il nonnismo è un fenomeno che non è mai e poi mai stato accettato, ma che purtroppo accade ancora oggi. Questo è un ambiente in cui c'è ancora l'addestramento iniziale, o l'addestramento militare iniziale, ma qui vediamo che si tratta di una scuola per aspiranti ufficiali. In genere, i potenziali ufficiali sono un po' più maturi di così, sono nell'esercito da un po' di tempo ormai, e hanno raggiunto i gradi di arruolamento. Ci sono determinati comportamenti, che possono essere più accettabili all'interno di quell'ambiente, rispetto a quello dell'addestramento delle reclute semplici. Ad un certo punto, era stato diffuso in tutti quanti i reparti un incarico, che prevedeva l'individuazione di metodi graduali, se così si può definirli, per affrontare e contrastare ogni forma di nonnismo. Si è trattato di segnalazioni, come nell'esercito, ovvero il famoso, no team, ma squad, per sensibilizzare sull'argomento non solo la leadership, ma anche tutti gli altri. Ci sono circa due o tre livelli di controlli e valutazioni, tutti atti a evitare che un ispettore oppure un sergente istruttore disonesto possa prenderla sul personale, come sembra in questo filmato. A causa della complessità e degli aspetti che caratterizzano la scuola per aspiranti ufficiali, rispetto a ciò che avviene nell'addestramento iniziale riservato alle reclute, direi che è più efficace oggi di quanto non lo si è in passato. Potrei dare a questo film un 7. L'allenamento con i pesi è importante, perché è necessario essere in grado di sostenere il proprio peso. In alcuni casi potreste dover sollevare, trasportare o trascinare un vostro compagno o compagna. Usare i secchi di sabbia come pesi è molto meno costoso che comprare dei pesi per ogni singolo marine, ma in questo modo si raggiunge lo stesso risultato fisico. Stavano svolgendo combattimenti con i bastoni di gomma e l'istruttore stava anche mostrando loro il combattimento ravvicinato con il coltello. Perché ogni marine, ogni soldato, ogni persona che si arruola nell'esercito è prima di tutto un combattente. Quindi l'addestramento con i bastoni di gomma è sicuramente uno dei modi più validi attraverso i quali viene instillata nell'individuo la fiducia nella propria capacità di difendersi. Ed è anche divertente da guardare. Direi quindi che posso dare a questo film un 7 pieno. Il mio sergente istruttore preferito è Jack Webb nel film DI del 1957, che mostra in maniera chiara e realistica entrambi gli aspetti della vita di un sergente istruttore. Cosa fa la sera un istruttore dopo essere stato lontano dalla sua squadra? Se vi è piaciuto questo video, cliccate su questo video qui sopra.